In CMC gli standard non esistono, perché ogni cliente ha gusti ed esigenze diverse. Una volta che abbiamo capito qual è il gusto del cliente realizziamo degli schizzi per far capire quali sono le varie proposte. Ogni dettaglio è fondamentale, per questo affianchiamo i nostri clienti nella realizzazione del caravan e li guidiamo passo a passo nella scelta delle migliori soluzioni in fatto di design, qualità e tecnologia. Tutti i componenti presenti nei caravan CMC sono costruiti all'interno dell'azienda, dei nostri falegnani carpentieri, usando tutti i prodotti di qualità, così possiamo garantire una durata nel tempo. Prepariamo tutti i progetti utilizzando i migliori strumenti tridimensionali parametrici disponibili sul mercato, minimizzando pertanto gli errori e aumentando al massimo quello che è la velocità di produzione delle strutture dei caravan. Infatti le nostre strutture sono costruite in ferro zincato e acciaio inox e rivestite esternamente in alluminio anodizzato, tutti materiali anticorrosione. Successivamente creiamo dei 3D per far capire quali sono le dimensioni nella realtà e come possono essere abbinati i vari materiali. Una zona living ampia e accogliente, una zona notte tematizzata per i più piccoli o impianti ad alta tecnologia. Verifico personalmente il check out di ogni caravana in modo che tutto sia come da richiesta del cliente, perché il nostro motto è la caravan CMC deve migliorare la qualità della vita di chi la possiede.